ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua ancora una volta con i vostri video e vostri simpatici orologi a volte simpatici a volte un po meno però ce ne faremo una ragione a noi ci garbino gli orologi quindi anche quelli brutti li guardiamo volentieri no poi è tutto relativo brutto bello però voi mi mandate il video mi chiedete cosa ne penso io ve lo dico se è brutto se bello per me è tutto relativo a me quindi non prendete per oro colato le mie parole come partecipare lo sapete no in orizzontale sette minuti più o meno e poi vorrei ricordarvi come al solito che ormai ci siamo è il quinto watch meeting il quinto raduno del canale che si terrà domenica 12 maggio alle ore 15 a viareggio presso la gioielleria pasquali domenici o per meglio dire nella zona antistante che è pedonale mettiamo un gazebino un tavolino i vari depliant le varie situazioni registro anche un video e ci incontriamo e parliamo di orologi poi si può anche entrare a provarli gli orologi e all'interno ci saranno anche i banchetti di vulcain longin oris che è sponsor della manifestazione orologica la mai ci sarà l'amico umberto pelizzari noto apneista nonché uomo di spettacolo e ci sarà anche un gadget da portare a casa per ognuno dei partecipanti una bella polo bianca firmata oris e contatori del tempo e pasquali domenici un trio d'assi diciamo così detto questo vi mostro l'orologio del giorno che anche oggi è questo bellissimo villervetta dyna wind è uno dei miei orologi preferiti così da tutti i giorni no con questo cinturino nato in cuoio in vacchetta toscana la vacchetta toscana ci piace tanto è bello sta bene dai bello orologino detto questo passiamo al primo video la barra spazzatrice ancora lì sì la barra spazzatrice ancora qua io gli do il via con l'indice pronti attenti via ciao davide io sono riccardo e questo è il secondo video che ti faccio il primo è stato quello con mio padre dove ti facciamo vedere sia la mia che la sua collezione in questo video invece ti farò vedere solo la mia aggiornata la cosa che ci tengo a dire è che tutti gli orologi che vedrai sono stati presi da me e comprati in maniera autonoma infatti nell'ultimo anno e mezzo mi sono messo a studiare comprare e rivendere orologi e questo poi mi ha consentito di ampliare le mie conoscenze e di conseguenza anche prendere gli orologi appunto che sono presenti nel video ma mi ha permesso anche di avere diciamo delle mie entrate e di poter pagare le tasse universitarie in autonomia detto questo il primo orologio che ti faccio vedere è questo seiko sq50 che mi è stato regalato appunto da mio padre insieme alla festa 18 anni ed è un cronografo al quarzo ma secondo me è molto bello anche dei veri e propri componenti meccanici mamma mia che bello di un cronografo automatico e questo lo rende diciamo diverso da altri orologi simili al quarzo come il secondo orologio invece che ti faccio vedere è sempre un giapponese cosa ma è un sizen e questo in realtà è un orologio che era rimasto fermo nel cassetto per molto tempo che poi mio padre mi ha regalato ed è l'orologio che mi ha fatto scattare la vera e propria passione per gli orologi e una cosa di cui sono molto soddisfatto è che ho avuto un periodo di diciamo ho voluto provare il mondo da orologiaio quindi ho trovato un orologiaio che mi ha appunto non funzionava molto bene aveva problemi con la corona e la ricarica manuale allora ti devo dire bravo perché non è facile trovare un orologiaio che si mette a disposizione per insegnarti i trucchi del mestiere è di solito quando si parla di artigianato in questo senso si tende un pochino a custodire i propri segreti l'arte del mestiere no o addirittura ci si fa si si fa pagare ti prendo come un corso ti faccio ti faccio il corso io oppure ti faccio lavorare gratis stagista ti faccio vieni qua per imparare ti faccio lavorare fai le cose spazza per terra cammina quello quello funzionerebbe proprio così però complimenti da appunto l'ho revisionato io ed ora marcia perfettamente per dell'incirca cinque secondi al giorno buono bravo molto preciso però comunque non ci si può lamentare però questo tra l'altro è un field watch con la particolare di essere appunto un promaster a facente parte della famiglia di promaster ed impermeabili ai 100 metri a me piace molto bravo bravo il secondo orologio che ti faccio vedere cos'è cos'è questo foibos apollo caro da un orologio della foibos un micro brand totalmente realizzato in in titanio 300 metri anche la ghiera in titanio e calibro miota 90 15 e davanti in fibra di carbonio è un orologio che è molto simpatico diciamo simpatico molto carino carino la cosa che mi fa che mi mette allegria sono queste lancette che riprendono un po la forma dei razzi con il fuoco dentro oggi non è che sia al massimo è un orologio che ha un po uno stile fantascientifico boh vabbè un altro orologio che ho preso diciamo non se ne vedono molti è questo rotary tradition un orologio di appunto della casa anglo svizzera rotary molto bello con corona vite calibro sellita sv200 c'è stato un periodo un paio d'anni fa che andavano andavano molto questi rotary e si vedevano spesso anche su internet si acquistavano anche bene a prezzo basso perché rotary è una casa che inglese come dite che però divide la produzione in due due settori swiss made e non swiss made con i calibri giapponesi assemblati sicuramente in asia oddio ho anche il dubbio che insomma che anche questi qua siano appena appena assemblati in svizzera proprio per soddisfare la minima percentuale no per lo swiss made non è che ci sia tutta quella grande quel grande valore aggiunto all'interno di questi orologi che però per quello che costano sono più che buoni e anche diciamo uno standard di impermeabilità che è lo standard dolphin e che praticamente equivale diciamo una specie di iso anche questo è molto carino diciamo tenere il tempo molto bene e da soddisfazione al polso bravo questo è l'orologio lo centro il suo quadrante nero e diciamo io è un 40 mm lo considero quasi un dress watch addirittura altro orologio che ti faccio vedere è questo orologio che ho comprato io per mio padre per natale una cosa molto simpatica che è questo jungans a carica manuale penso sia degli anni 50 spettacolo la cassa è placata però comunque per il prezzo a cui l'ho preso è stato un affare quindi insomma l'ho preso più per stile diciamo per scopo collezionistico che per poterlo usare aveva il plexiglass completamente rovinato io poi l'ho lucidato infatti come si può vedere che è carino e simpatico piccolo piccolo però orologio prende parte sempre della mia collezione questo 6.5 automatico questo in realtà non c'è molto da dire srp è stato preso dopo una tua recensione un orologio che comunque per quello che costa offre molto ed è anche molto elegante per certi pezzi ma rimane sportivo promosso quello lì il secondo orologio che ti faccio vedere come secondo è questo hamilton kaki king braccialato e questo c'è una storia un po particolare perché era un orologio che io avevo comprato da un prezzo diciamo irrisorio però che piaceva anche molto mio padre così poi io successivamente ho deciso di prendere la versione del 2023 questa qui e questo l'ho dato a mio padre è diciamo l'orologio che unisce la nostra passione per l'orologio e l'orologio che abbiamo in comune che differenza c'è? insieme una cosa un po così però comunque è un bello orologio ne vale la pena insomma anche per il prezzo in cui si trova diciamo soprattutto nel mondo dell'usato ma del nuovo ne vale veramente la pena ma sì bravo bell'orologio altro orologio che ti faccio vedere è questo diver di casa Seiko Samurai Seiko Mantaerei edizione speciale versione 1 che insomma l'abbiamo visto anche spesso svariate volte sul canale con il suo quadrante con le mante la ghiera in ceramica in probabilità di 200 metri e braccialato con il bellissimo fondello chiuso di seco con l'onda di cane gauva questo orologio simpatico io avevo la versione 2 di questo orologio con il quadrante più scuro però poi è diciamo c'è stata l'opportunità di poterlo scambiare so che a te non piacciono gli orologi con il trattamento in pvd ma a me sì e ho preso l'ho scambiato con questo ragazzo questo qui è un Seiko Tortois un'edizione limitata a 7000 pezzi mondo ispirato alla visione notturna rimane comunque diciamo un 200 metri un data ovviamente non ha la ghiera da immersione ma ha la bussola come ghiera fatto la recensione anche io è molto bello in realtà è ispirato alla visione notturna quindi il nero e poi gli indici verdi che riprendono appunto i colori del visore notturno militare è un orologio che ha una leggibilità impressionante e anche come quest'altro orologio con la pasta luminescente di Seiko è sempre una garanzia Lume Bright anche di notte la leggibilità è mostruosa diciamo l'orologio successivo che ti faccio vedere è questo Certina DS Podium con movimento ETA 2824 ho recensito anch'io che ho comprato anche questo a un prezzo senza senso diciamo con tutto quanto il corredo è un orologio molto bello molto bello molto bello altro orologio che ti faccio vedere è questo T-SOP PRX automatico con un quadrante blu e questo diciamo è un orologio che io avevo preso inizialmente con il cinturino in pelle pensando fosse brutto ma in realtà anche no perché con il cinturino in pelle cambia totalmente l'aspetto dell'orologio e per certi versi fa risaltare anche di più il colore blu del quadrante è un orologio portabilissimo e mi dà soddisfazione ah si è cascato soddisfazione altro orologio che ti faccio vedere è questo Mido Multifort Patrimony anche questo ho fatto la recensione orologio anche questo che ho preso diciamo da rivendere però poi con il passare del tempo mi è piaciuto e quindi poi ho deciso di tenerlo ho fatto bene con vetro zaffero bombato e devo dire che con tutti gli orologi che hanno il Powermatic 80 hanno delle tenute del tempo ottime anche questo per esempio perde due secondi al giorno lo dicono tutti sono calibrati benissimo anche se poi da un punto di vista della revisione bisogna trovare anche l'orologio che è capace di revisionare non avendo più la racchetta sul movimento sul bilanciere sì ma il discorso della revisione è sempre il solito discorso quanto vuoi spendere per fare una revisione Mido, Hamilton, Tissu sul sito web in fondo nella sezione customers, clienti hanno il prezzario per fare il service completo che il service completo include anche la lucidatura, la sistemazione, sostituzione delle sfere magari della corona non solo la revisione interna del meccanismo vanno dai 180 euro a quelle cifre lì quindi vale la pena sforzarsi di andare a portarlo da un indipendente c'è un centone che lavorerà anche di più che ti fa solamente la revisione mentre facendo il service completo in casa madre sei sicuro che ti sostituiscono anche i pezzi che sono per loro usurati o che devono farlo da manuale ogni service da manuale vanno sostituite le lancette, la corona poi non lo so che cosa e loro te le sostituiscono senza fiatare cioè meccanicamente proprio anche se sono buone quelle altre te le sostituiscono e ti riparti da zero vale la pena? tieni presente questo però orologio molto bello molto bello il penultimo orologio che ti faccio vedere un acquisto recente è questo Tissu Sistar da 43 mm con ghiera in ceramica quadrante a sole al grigio e impermeabilità di 300 metri questo è anche un orologio pesante quasi come il se non di più del Seiko Samurai sono orologioni ma è un orologio che l'ho preso perché mi piace tantissimo e poi comunque sono curioso di vedere come si comporta al mare anche questo con il PowerMario 80 per all'incirca 2 secondi come si comporta al mare? l'ultimo orologio che ti faccio vedere che avevo preso per diciamo fare l'affare e rivenderlo ma poi me ne sono totalmente innamorato è questo Oris Pointerdate fondo di magazzino NOS degli anni 80 in queste condizioni ve lo pare al nuovo con corona originale il movimento è un ETA ora non ricordo bene la sigla ma comunque anche il movimento è 2691 completamente nuovo ed è un orologio bellissimo un 35 mm ecco poi ho mi sembra che c'è scritto ETA 2691 ETA 2641 non lo so non lo conosco però da notare il fermo movimento in plastica gigantesco ragazzi è bruttina sta cosa purtroppo cioè anni 80 hai detto ecco magari eravamo nel pieno del del risparmio ci sta anche spero che oggi non siano così anzi non è così oggi non è così hai detto che 34 mm non come diametro cassette ecco quindi questo qua è un calibro non potevano metterci certo magari un ETA 28-24 occhi per esso e quindi hanno messo dentro un calibro così di diametro piccolo obbligati e hanno dovuto mettere tutto questo plasticamento qua mettere nei pointer di oggi che hanno che fondello trasparente si vede che non c'è tutto questo spazio comunque dai hai fatto un bel acquistino Oris SA bello ho abbinato questo cinturino racing vintage verde e questa la particolarità di questo orologio appunto è che non ha la finestra dei secondi ma la lancetta che appunto indica il giorno sulla parte esterna lo sappiamo già e questo secondo me è il pezzo forte della mia collezione soprattutto per le condizioni in cui si trova detto questo io ti saluto complimenti per il canale e continua così ma certo love 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 cavoli è una bella collezioncina di orologi proprio completamente variegata uno che non c'entra niente con l'altro poi mi sembrava di aver capito che ti sei anche guadagnato qualche soldino rivendendoli cosa che poi è stata confermata dal fatto che questo lo avevi preso per venderlo quindi ti stai facendo anche un po' di sgrattugiamento sopra un po' di cresta per cercare di guadagnare due soldini non ti dico niente però si vede chiaramente che sei appassionato non è che ti dico lo stai facendo per lucro perché no ci sta tanto più che ti sei messo ad imparare a smontare gli orologi rimontarli fare le revisioni cercare di capire eh bravo è una forma di passione veramente a 360 gradi la tua ora l'unica cosa tu ti vedi gli orologi per l'amore del cielo non ho visto niente di particolarmente brutto che devo criticare l'unica cosa che mi lascia perplesso che hai preso il sister della Tissot per portarlo al mare e vedere come si comporta e come si comporterà si mette a nuotare da solo ti si tuffa e poi torna a galla da solo e ti dice sono qua come si comporterà tenuta stagna orologio moderno fa il suo no come si può dire fa il suo comunque il sister lì ora esce anche il 40 è uscito il 40 mm e sto fremendo per averlo tra le mani per vedere un po' per farne una recensione vedere com'è come non è perché tutti stanno andando verso i 40 mm secondo me sono 39-40 la misura perfetta no la misura perfetta per quegli orologi per tutti i polsi ti do dire a me poi per me vanno bene anche i 42-43 sul mio polso però una versione da 40-39 dovrebbero avercela tutti a disposizione e ti so con il sister è l'ultima che ci sta arrivando perché praticamente tutti ce l'hanno più o meno esistevano già il quarto mi sta da 40 ora arrivano anche gli automatici sempre con il solito calibrino simpatico lì il powermatico 80 non so anche versione credo sia la versione da 23 rubini con lo scappamento in materiale composito va bene dai prossimo video ciao Davide ciao a tutti amici del canale oggi volevo presentarvi la mia mini collezione sono poco appassionato di orologi sto andando in questo magico mondo disegnato al tempo ma primo orologio è questo un orientekamasu verde petrolio bellissimo un orologio per qualità prezzo penso ottimo certo buone caratteristiche un bel diver da 42 mm vetro zaffero ci vuole un bracciale giubilì ho visto la tua video recensione ci sta molto bene ci sta molto bene vedremo più avanti poi secondo orologio invece questo Hamilton Jetmaster Hamilton Power Reserve carino 42 un orologio particolare perché avete questa mezza lunetta sta a rappresentare la riserva di carica infatti monta un movimento H13 fratello dell'H10 un orologio allora la cassa di 42 mm forse leggermente grande da 40 ho trovato in occasione un terzo del prezzo di listino e allora è fatto bene ho deciso di prenderlo molto Hamilton mi piace molto proprio hai fatto io ti dico che hai fatto bene però un terzo del prezzo di listino cioè non deve essere quello solo il motivo che ti spinge ad acquistare qualcosa qualsiasi oggetto non solo un orologio e siccome me l'hanno messo un terzo del prezzo di listino allora l'ho comprato ma se a me una cosa non mi piace non mi piace né che costa il prezzo di listino né che quasi me la regalano per assurdo non mi piace non la voglio no grazie a meno che te lo regalano oppla tieni lo vendo un euro guadagnato va bene ma io non li avrei spesi non mi sembri convinto 42 mm poi grandino comunque se sei contento te siamo contenti tutti però non ti sento convinto in realtà non ti sento l'eleganza l'eleganza questo orologio certo l'ultimo invece orologio che volevo farvi vedere era questo longin flyback con movimento ch30 referenza 7414 un bel vintage se ti piace il longin se l'avamo già visto sul canale o meno ma particolarità appunto è questa dovrei fargli una bella revisione perché mi è stato regalato un po' l'ora affettiva ed è stato quello che un po' mi ha fatto appassionare diciamo al mondo gli orologi studiare i movimenti carica manuale senti come canta 18 carati vai un bel vintage bene è tutto adesso grazie a voi che mi sto appassionando vedrò di ampliare la mia mini collezione per adesso vi mostro questi tre ciao a tutti ciao 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 cosa ti si può dire tre orologi anche te un giovane appassionato da poco un vintage che quello lì è il signor vintage ragazzi che è il ch30 è veramente un bel calibro un bel orologio in oro lo vorrei volentieri io il kamasu come un bel daverino è l'emilton jazz master non si può dire niente cioè sì no mi piace no però il bracciale del kamasu è però il 42 tutte cavolate hai tre belli orologi goditi li divertiti poi piano piano poi dopo troverai la tua strada ben precisa dopo riuscire a capire quello che non ti piace che poi quello che non ti piace è in quel momento se io adesso dico che non mi piace una cosa non mi piace veramente dico la verità ma potrebbe essere che fra due o tre anni e invece incomincia a piacermi si cambia ragazzi si cambia ci sono alcuni punti nella vita che non adere il pesce non mi piace il pesce non mi piace il pesce e sono tutta la vita che non mi piace il pesce e non cambio mi spiace c'è una cosa che non si cambia però il gusto negli orologi cambia vediamo un po' come ti evolverai bravo bravo amico mio ciao davide un saluto a tutti gli amici del canale sono Nicola e oggi voglio mostrarvi la mia collezione di orologi ma va ma va la tua collezione di orologi bravo 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 è logico come tutti qua ho fermato perché c'è gli ACDC for those about rock è proprio veramente un bel disco qua finalmente la musica come deve essere quella con la chitarra distorta e la gente che urla quella ci piace le altre musichette così un pochino da bambini uncicarbino via oggi diciamo da un anno questa parte ho cominciato ad appassionarmi a questo mondo anche in parte per colpa tua colpa mia e sono riuscito addirittura a tirarmi dietro anche mio padre quindi il processo è stato inverso non è stato lui a tirare dentro me ma io a tirare dentro lui può partiamo diciamo con degli orologetti al quarzo vai per arrivare poi al clou della mia collezione con gli orologi che indosso maggiormente vai bravo partiamo con un paio di swatch questo è il primo che ho scontrato quando ero piccolo orologio molto valido e sicuramente molto più valido degli swatch che producono attualmente è durato vent'anni e funziona ancora è fermo perché è un quarzone e la batteria glielo ho tolta in quanto c'è pericolo si rompa e rilasci l'acido rompendo l'orologio bravo poi c'è questo swatch crono e non mi piace in quanto il quadrante è troppo pieno troppo carico e ne risulta davvero difficile la lettura e attualmente funziona gli ho cambiato la batteria e non lo uso per il motivo che ho appena detto troppo carico troppo pieno e poi un quarzo fa piacere particolarmente i quarzi questo è un orologio che mi è stato regalato in quinto superiore dai miei zii è un ecodrive un citizen molto semplice molto pulito impermeabile 100 metri e il cinturino essendo rigido fa sì che l'orologio risulti molto più grande ingombri molto di più il polso il cinturino comunque l'ho usato per un paio d'anni l'ho portato anche al mare orologio molto valido molto valido valido passiamo poi a un altro quarsino questo bulova bulovino regalatomi da mio zio sempre per la comunione mai utilizzato utilizzato soltanto di recente magari in caso debba andare a qualche festa debba indossare una camicia un vestito utilizzo questo bulova in modo tale da non rovinare gli altri miei orologi e avere comunque un orologio comodo al polso non riesco a stare senza orologio mi sento nudo credo che questo feeling sia condiviso il feeling è condiviso ma se devi andare a una festa c'è un'occasione che nel tuo ambito sociale è importante ognuno ha le importanze e ti metti il bulova al quarzo ora voglio vedere che altri orologi hai perché hai paura di rovinare gli altri ma non è questo il modo di ragionare se io vado a una festa mi metto l'orologio che mi garba che almeno sono contento di averlo al polso non quello che non indosso mai che mi hanno regalato la comunione e per il quale devo trovare assolutamente una collocazione no assolutamente no passiamo poi a un altro orologio al quarzo eh dai basta però questo Casio G-Shock sicuramente a te non piace leggibilità molto scarsa diametro cassa 44-45 mm se non erro sicuramente molto resistente l'ho utilizzato ampiamente lo scorso anno per andare al mare mi è stato regalato dei miei amici proprio come regalo di compleanno dell'anno scorso e mi piace molto semplicemente per la sua durevolezza e resistenza durevolezza non ha nulla a che vedere con gli orologi a mio parere è quasi paragonabile a un orologio tipo Apple Watch poi passiamo all'ultimo quarzo della collezione anche se in realtà non è mio eh questo Citizen Eco Drive l'ho regalato a mia madre con i primi soldi diciamo che sono riuscito a mettere da parte mamma non aveva un orologio personale quindi ho deciso di regalargli questo hai fatto bene perché non ho preso uno automatico in quanto mamma non lo indossa tutti i giorni e si sarebbe fermato di continuo sapendo che non avrebbe avuto pazienza di resettare ogni volta l'orario avrebbe smesso di utilizzarlo quindi ho optato per questo Eco Drive al quarzo ma se fa così funziona così si regalano quelli tanto passiamo poi agli automatici questo è il primo orologio che ho comprato diciamo di mia sponte recentemente quando la mia passione è cominciata ed è questo Seiko S-X bravo monta un movimento 7S26 movimento che credo tu conosca bene molto robusto 42 mm di diametro cassa orologio fantastico che ho avuto il piacere di indossare come ho visto dagli scorsi video l'ho acquistato quando il prezzo era ancora accettabile l'ho pagato attorno ai 250 euro quindi era ancora una valida opzione per un diver a basso prezzo ma si è fatto bene passiamo poi a un orologio che non è mio ma con questo orologio sono riuscito a tirare dentro diciamo mio padre nella passione era sempre piaciuto questo orologio e alla fine ho deciso di prenderglielo io in quanto lui continuava a guardarlo ma non lo acquistava questo Seiko Tartle l'ho acquistato nuovo ho cambiato il cinturino mettendo questo comodissimo nato modificato in modo tale che risulti meno ingombrante sul polso single pass come ho visto che anche tu l'hai ampiamente utilizzato hai utilizzato per un periodo nato single pass e orologio come dici tu molto bello no lo dici tu molto bello poco ingombro sul polso anche grazie alla forma della sua cassa sicuramente molto importante essendo 45 mm e ho optato per questo e non per il nuovo modello in quanto non mi piace la lente rivelatrice ovale sul vetro rivelatrice e non mi piace neanche il quadrante nuovo utilizzato da da Seiko per i nuovi Seiko Tartle orologio molto valido molto bello sicuramente quest'estate verrà utilizzato al mare farà il suo lavoro però dai vi devo fermare perché è la prima volta che sento dire la lente rivelatrice cosa vuol dire cioè scusate se rido ma la lente rivelatrice la lente magnificatrice no perché magnifica aumenta ma rivelatrice era nascosta la data lei ce la rivela poetico poetico passiamo poi a un altro orologio regalato invece dai miei genitori il primo anno di università questo magnifico tiso prx orologio visto e stravisto però molto valido devo dire molto valido per il prezzo di acquisto è davvero un orologio fantastico adoro come è lavorato il bracciale e grazie alle satinature i graffi si vedono molto meno sono molto meno visibili bravo mantiene molto bene il tempo e sono molto soddisfatto che dire non c'è molto altro da aggiungere lo indossico il piacere su questo orologio certo passiamo poi all'ultimo orologio arrivato in collezione questo teoricamente è il mio regalo di laurea arrivato un po' prima in quanto mi laureerò tra qualche mese però ho deciso di diciamo prenderlo prima farlo acquistare prima in quanto ho visto che i prezzi stavano comunque pian piano crescendo so che è un orologio che a te non fa impazzire ma a me piace moltissimo questo Tudor Black Bay 54 diametro di cassa 37 mm lug to lug di 46 quindi l'ingombro al polso è molto maggiore di quello che potrebbe suggerire un orologio da 37 mm finiture a mio parere fantastiche con gli indici bicchierini in oro bia scusatemi in oro rosa e 11 mm di spessore di cassa e la nuovissima T-Fit Clasp adottata da Tudor che a mio parere è comodissima in quanto permette di allargare il cinturino in caso magari il polso stia sudando o durante la stagione estiva senza l'utilizzo di attrezzi orologio per me fantastico prezzo accessibile diciamo per la qualità dell'orologio e questa è quasi tutta la mia collezione l'ultimo pezzo che volevo farti vedere è questo orologio da taschino regalatomi da mio nonno se non erro la cassa dovrebbe essere in argento anche se non ne sono sicuro ho fatto qualche ricerca e ho visto che un orologio dovrebbe essere russo perfettamente funzionante meccanico non lo conosco e pensavo avesse perso il vetro invece da qualche ricerca da qualche da quel poco che sono riuscito diciamo a capire il vetro non è proprio presente su questi modelli di orologi strano ovviamente non lo utilizzo mai preferisco utilizzare orologi da polso però è molto bello da avere in collezione molto bello come dici tu grazie Davide se pubblicherei questo video complimenti per il canale e un saluto a tutti gli amici un salutone un salutone lo pubblico solo perché c'erano gli esidi come sfondo perché nove minuti e mezzo porco giudeo come fate a fare video così lunghi a dilungarvi così tanto va bene per il resto essendo tu un appassionato da poco un neofita brutto termine un giovane appassionato nel senso di breve termine hai degli orologi oserei dire tutti validi tra i quali spiccano sicuramente il Tudor Black Bay 54 da 37 mm che non fa per me che però sicuramente se l'hai scelto significa che fa per te e oserei dire anche il Seiko SKX che è un bel tocco di neo vintage all'interno della tua collezione poi c'avevi tutti i quarzoni cosa c'avevi altro di interessante non mi ricordo nemmeno cosa potevi avere 9 minuti sono durati il Tartel del babbo ma è il PRX è il PRX che è un bello orologio il PRX è un bello orologio dai si 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 tre belli orologi Tudor Black Bay PRX della Tissot e il Seiko SKX poi il Seiko Tartel è del babbo quindi niente tre orologi va benissimo così goditeli rimani per un pochino su questo livello qua a galleggiare così e poi dopo fra un pochino procedi magari con qualcos'altro o magari da indietro qualcosa ti prendi qualcos'altro come facciamo tutti oppure addirittura te li lì e ne aggiungi un quarto quarto ce n'è anche altri ma io non li considero gli altri perdurami ma i quarzetti non li considero prossimo video ciao Davide innanzitutto volevo farti complimenti per il tuo bellissimo canale grazie e ti volevo mostrare una piccola parte della mia collezione che è suddivisa tra orologi civili e orologi militari assegnati assegnati? addirittura partiamo da quelli civili qua beh il classico il dongin hydro conquest da 41 mm con ghiera in ceramica poi bretti incallisto acciaio oro con il classico bracciale anche detto cartucera omega simaster referenza 1342 con bracciale integrato allo quarzo se non sbaglio dovrebbe essere un 37 mm questo qui è uno dei miei preferiti molto bello è veramente bello peccato che è a quarzo perché il faccio una quarzo questo qui il classico omega speedmaster reduced che dovrebbe essere per il mercato giapponese avendo il quadrante bianco ma non so di sicuro e poi Hamilton Kaki Navy Skymaster Skymaster il bello è questo orologio che ha le tre coronavite è un GMT dovrebbe montare il classico 2893 se non sbaglio ci sta e adesso passiamo a quelli militari militari eh questo qui è un Elgin Type A11 da pilota americano della seconda guerra mondiale con movimento Elgin 539 molto bello A11 è tutto originale tra nel cinturino che ho messo questo boom scusami se è un Type A11 originale della seconda guerra mondiale è tanta roba A11 erano quegli orologi militari nati dalle specifiche del ministero della difesa britannico se non mi sbaglio insomma o dei paesi dell'occidente no infatti esiste anche il Bulova A11 cioè erano una smandrappata di marchi che facevano per intenderci no quando uno erano oggetti questi qua erano oggetti strumenti erano strumenti non era l'orologio da polso erano strumenti quindi le forze armate ordinavano gli orologi che dovevano essere fatti secondo le disposizioni A11 tecniche dovevano essere fatti così e poi c'erano i vari fornitori proprio fornitori erano semplicemente che potevano essere Bulova Elgin insomma la sporca dozzina no quindi c'erano 12 stabilimenti 12 aziende che facevano questi orologi tutti uguali magari anche senza marchiarli a volte se è quello lì originale degli anni 40 io ti posso dire che tanta roba e basta Berlus con la cassa in fibra di plastica questo qua è del 1969 Vietnam probabilmente visto le condizioni avrà visto per davvero la guerra purtroppo le lancette non sono le sue ma tant'è trovale fai qualcosa Hamilton da pilota americano del 1978 cassa in monoblocco il classico diciamo Kaki Field minchia poi il suo fratellino gemello Benrus Benrus anche questo qua invece della guerra del Vietnam del 1973 sono praticamente identici cambiano un po' i fondelli che per ottimo sono gli stessi dai per ultimo questo qua è un maraton assegnato sempre all'esercito americano degli anni 2000 questo qua lo fanno sia militare che civile molto bello perché ha il quadrante con le fiale di trizio è un 300 metri 41 mm e niente volevo sapere cosa ne pensavi della mia piccola collezione di orologi militari e civili grazie a te grazie e niente gli orologi civili sono un po' né più né meno come tanti altri non c'è niente sbagliato belli orologi il calisto lì soprattutto vintegino mi piace molto è quella militare che è sorprendente ora ti dici assegnati io spero cioè sicuramente tu sai cosa significa assegnati significa che ci sono prove incontrovertibili che sono stati assegnati a un dato militare e a un dato reparto in quel dato anno magari con una incisione dietro quello significa assegnati perché da non confondersi col fatto che si erano allo spaccio per esempio è già un altro discorso che li vendevano come orologi come strumenti allo spaccio dove ognuno pigliava il suo magari diverso oppure che sono di quell'otto lì magari ma non sono stati assegnati è abbastanza complessa quando si va nella nello studio dell'orogeria militare veramente quella importante comunque io sono rimasto basito poi li vedete sono tutti più o meno sibili perché le specifiche erano quelle le specifiche della seconda guerra mondiale poi le specifiche nato le specifiche del vietnam ma più o meno erano sempre quelle le specifiche varie case come Berlus Hamilton e costruivano gli orologi fatti tutti allo stesso modo da fornire da usare come strumenti bravo mi si è piaciuto molto e quella lì è una branca dell'orogeria che richiede particolari particolare studio e anche particolari disponibilità economiche perché insomma non te li regalano questi orologi qua ognuno di noi sa quanto ha il valore sul mercato nel senso che se lo vuoi mi devi dare quello non è che poi puoi andare da un'altra parte a prendere qualcosa di simile no sono quelli lì bravo 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 non ci sei piaciuto detto questo io ragazzi vi saluto perché non è che possiamo stare qua a smacchiare i jaguari all'infinito quindi io devo andare a vedere i video dei gattini su instagram che mi rilassano e quindi vi devo lasciare io vi ringrazio per essere arrivati qua fino qua spero vi siano piaciuti i video anche se non ho dato nemmeno un top oggi nemmeno una ciofecca nemmeno un top nemmeno una ciofecca strano diciamo un video medio e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao a tutti Grazie a tutti.